Un'attrazione da scommessa che incuriosisce cittadini e commercianti. Resta solo da vedere come sarà perché il Comune, per il format natalizio Pesaro nel Cuore, ha già annunciato la novità di quest'anno. In Via Curie e la Due Passi, da Piazzale Lazzarini e dunque dal Teatro Rossini, sarà posizionato un maxiscivolo di ghiaccio che dovrà occupare la facciata laterale che ospita Galleria Roma. Tra i commercianti c'è chi crede che l'attrazione contribuirà a portare il passeggio verso la stessa via e dunque anche in Piazzale Lazzarini, dove saranno allestiti quest'anno per la prima volta i mercatini natalizi. E chi invece resta più dubbioso, ritenendo che il via vai ai negozi per gli acquisti possa passare in qualche modo in secondo piano. E' una sorpresa perché comunque non sappiamo che tanto beneficio si può dare. A me soprattutto mi togli la visuale su via Branca. Magari si mettesse anche qualcosa da indicare che noi siamo qui, sarebbe anche una buona idea per fare capire alle persone che comunque qui ci sono dei negozi. Sono abbastanza contenta perché la speranza mia è quella che le persone non rimangono solo concentrate piazza, via Branca, Corso, ma riescono anche a conoscere le altre vie. Quindi se questo scivolo ci porta gente, inizia a muoversi qualcosa di più sotto il Natale, quindi speriamo che sia una buona soluzione. L'abbiamo appresa con estrema gioia perché finalmente dopo questi due anni di chiusure la vediamo e la viviamo come una nuova rinascita e pertanto accogliamo con gioia questa cosa e non vediamo l'ora di rivedere queste piazze rianimate e di festeggiare tutti insieme. Finalmente iniziative non più concentrate solo in Piazza del Popolo. Infatti perché anche Piazza Lazzarini e le vie limitrofei avevano bisogno di questa rinascita. Speriamo che sia altrettanto positiva la cosa. La via è un po' piccolina però dai, visto che hanno già levato tutti i lampioni, sposteranno le fioriere per metterlo tutto verso un lato della via. Speriamo bene, sicuramente porterà gente, dai, una novità. Per ora gli addetti ai lavori del comune hanno provveduto a smontare i pali dell'illuminazione nella stessa via dalla quale dovranno essere poi eliminate anche le fioriere. Ovviamente l'arrivo della trazione per il divertimento dedicato ai più piccoli comporterà inevitabilmente una modifica alla viabilità e all'ingresso alla via. E intanto l'attesa cresce.